Umbria Sport Magazine Cristian Quan ai microfoni di Umbria Radio Allora, solo dei spezzoni di partita prima di oggi sei arrivato, oggi hai fatto tutto tu, hai fatto due golle poi li hai difesi estremamente, tanti anticipi tanta irruenza, tanta fisicità insomma, oggi hai dato una grande risposta Sì Allora, grazie al staff e anche al mister mi sono fatto trovare pronto perché sempre gli dicevo mister poi oggi è stata una partita dura abbiamo meritato la vittoria e ringrazio anche la squadra abbiamo giocato bene poi è arrivato il gol perché mi sono fatto trovare pronto e speriamo che dobbiamo continuare su quella strada Su quel pallone di Verre quasi quasi non ci credevi che avesse trovato una traiettoria così precisa eri praticamente da solo davanti al portiere e lì non sei stato molto freddo Sì, 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 perché per l'occasione abbiamo lavorato durante l'allenamento anche il giovedì abbiamo fatto questo tipo di lavoro e non ho freddo ma è arrivato il gol sono contento, sono contento Ma è il secondo di sinistro? Sì, sì, sì Adesso siamo nel dubbio di quale sia il tuo piede vero perché hai calciato di destra e di sinistro esattamente uguale Sì, 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 perché io sono di destra ma anche di sinistra mi ringrazio anche Kingsley che mi ha fatto l'assist perché è anche il mio amico di quella squadra e mi ha fatto l'assist perfettamente è arrivato il gol di sinistro e non ho creduto ma poi l'ho fatto Alla fine proprio tu e Kingsley avete congelato un po' questo risultato che era fondamentale lo aveva chiesto il vostro allenatore ieri in conferenza stampa per dare un po' di seguito ai tre pareggi questa vittoria Sì, 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 l'ha detto sempre durante la settimana dobbiamo vincere questa partita dipende da un modo da tecnicamente, fisicamente non interessa detto che dobbiamo vincere questa partita poi l'abbiamo fatta con un grande agonismo e con una voglia Grazie a due anche ancora compro la squadra e dedico il gol alla mia famiglia e mio zio buona mano a me Ultima battuta adesso si va a Cremona a chiudere bene questo girone d'andata Sì, sì, sì adesso c'è finito manca l'ultima partita a Cremona speriamo di vincere questa partita ma ci dobbiamo allenare perché la partita è domenica manca due giorni quindi ci dobbiamo trovare pronto per la partita è domenica speriamo che apportiamo questo risultato in casa Grazie Cristian Grazie veramente complimenti grazie a tutti 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 grazie a tutti